Flavio Briatore, noto imprenditore e personaggio dello show Beats, durante la trasmissione Carta Bianca di Rai 3 ha parlato di scuola, con dichiarazioni che hanno fatto molto discutere l'opinione pubblica. Quali sono le affermazioni che hanno causato tanta critica? L'imprenditore ha commentato, il vero problema dell'Italia è la burocrazia che ammazza gli imprenditori. Ho incontrato dei falegnami in un'efficina l'altro giorno, che non avendo delle aziende che possono sopravvivere da sole, ai figli fanno fare altro, li mandano a scuola e all'università. Tra 20 anni non ci saranno più falegnami o muratori. L'Italia funziona perché ci sono piccole e medie imprese, dove chi ci lavora non sa neanche dove è Roma, non sa neanche chi è il ministro del lavoro, non gliene frega niente. Se queste imprese funzionano, il figlio è invogliato a fare il lavoro del padre, il lavoro manuale deve essere incentivato. Briatore si riferisce anche alla sua di vita privata. Mio figlio non andrà all'università, lo porterò a fare il mio lavoro, non ha bisogno di un avvocato, se mio figlio non lo vuole fare va fuori casa. Ma l'imprenditore, dopo il polverone alzato, ha risposto anche alle critiche ricevute. Il mio ragionamento non è stato compreso, non metto in discussione lo studio. Quando si finisce quel percorso di studi, se un giovane ha delle aspirazioni, tipo diventare medico, ingegnere o avvocato, fa benissimo a proseguire con l'università. Se invece non ha alcuna ambizione particolare e frequenta l'università solo per compiacere le aspettative dei genitori, questo è sbagliato e dico che è meglio che vada a lavorare. E su suo figlio Nathan Falco ha dichiarato Ha finito quest'anno la terza media, inizierà il liceo che farà in collegio, dove ci sarà anche una parte di food and beverage, che potrà fornirgli le competenze per continuare il mio lavoro. Sia chiaro, partirà da zero come tutti, facendo il cameriere. È fondamentale, se vuole un giorno diventare manager, partire dal basso, come ho fatto io nella mia vita. Grazie a tutti.